Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ese è Merlon! Ese quién è? No, este no è. Ah, èste. Ese è il di Goku, no? Buca, qui stiamo tutti! Nooo! Venga, toma por culo! Fuera a tutti! Fuera a tutti! En serio, Karim ha matato a Merlon, tío? Yo no he sido, eh! Nos ha echado, nos ha echado, nos ha echado! No, no, yo voy a por él, eh! Yo voy a por el Vegetta! Yo voy a por él! Yo voy a por él! Yo voy a por él! Hacete! Sì, stai qui abaixo, saldame por favor! And it's not, it's not dropping frames! I am fucking shooting myself! This is it. The game is saying no. The game is saying no. If I take one more step, it'll be the furthest away from home. I've never been. Oh my god, I see it now. Wow. That's it. Any moment. Oh my god. Eat the bread, 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 eat the bread. Man, how far did you fall? Oh my god. We'll never know. We'll never know. Yeah, that frame rate though. Give him love, guys. Give him love. Give me love. Que me equivoco, esperate, esperate, esperate. Como se hace? Esta ahi, esta ahi. Bam a la caca, que das a la suda,なんか. 기�ale esto. Soy un maquina, tio, soy yun maquina Cari lucullou cuidado Que pasa? ARROR Sì, questo è un po' di più? Sei un chico carvalan Sei un chico carvalan Ora sei un chico Hey, should we be doing this? It's fine, I have a boyfriend Let's go Sto-chi 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 Si, se stanno bene Non lo si può spiegare the boss Il chico è Il forage willer e il boss Il suo serato di essere il boss ma c'è sì il mio chico... per andare a ronco l'am no, per essere non ma compagnone gaming per essere cuidado che viene la con mea una pecadora o la mamita rica mandeme audios per se non se leer te chuparia tutta la zora esa che teni mamita lo malo de las tetas es che viene pegadas a una mentirosa no, per se non non, c'est dernier temps parce que j'aime pas trop tout ce qui est cité au événement du style cependant ah ouais mais je ne savais pas du coup non, c'est non, c'est poi la metta la tronche e poi la metta l'arc e la normalmente la spawne là e se la spawne non, la spawne la spawne ma normalmente la spawne non, c'est problématique do I have to do that every time to fucking change up? do I see faster? upgraded my speed do I seem like I jump higher? no, 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 no no, no, no no, no no we are well and truly back in the swing of things everything's breaking with alerts finally I'm forgetting gapples Kristen's coming in and telling me about them I'm placing water thank you for the gapple again fuck ooooo that was close that was close first time interacting with you and chat did you see that? I almost ate a god apple oh my god oh that's the first time that's happened holy fucking shit I caught díganme algo es su cumpleaños está en la cárcel hasta si me dicen mándale un saludo a mi amigo y yo Juan que actualmente está en la cárcel ah pues bueno y yo Juan este un saludo como estás amigo y yo Juan que te me echaron al bote ah cabrón por este por atropellar a varios ancianitos no un saludo y yo Juan ah ahí sí ahí sí puedo mandar un mensaje porque ya tengo contexto de que hizo yo Juan ah te echaron al bote iba a salir en 10 años un saludo un saludo carnal un saludo ah verdad ahí sí funciona ahí sí está bien el pedo eh soy el único que está poniendo el menú y yo que sé que siempre soy yo el que la lía con estas cosas que chochito tiene al excel capo que pasa y yo y yo